Si potenzia il centro socio-sanitario di Monte San Savino. È stato infatti sottoscritto lunedì mattina nella sala del Consiglio il protocollo d'intesa tra l'Asla Toscana Sud-Est e l'amministrazione comunale. Credo che questa sia la partita vincente della sanità e delle amministrazioni. Bisogna pensare al territorio e alle risposte concrete che questi enti, quindi in questo caso l'Asla e il Comune, possono dare in unione, in sinergia e condividendo i progetti proprio ai nostri cittadini. Per il 2017 l'Asla si impegna non solo a garantire il turnover del personale, ma assegnerà un ulteriore infermiere al centro, così da permettere la copertura anche nel pomeriggio delle attività ambulatoriali, oltre alla reorganizzazione di alcuni servizi, per esempio quello del 118. È un intervento complessivo. All'apparenza sembra solo che si aumenti la risposta infermieristica. In realtà è una serie di tanti piccoli interventi a catena che soprattutto puntano ad aumentare la capacità di risposta di questo centro. Lo facciamo perché abbiamo misurato i bisogni della popolazione molto importanti, una popolazione, per fortuna diciamo, sempre più anziana, perché insomma qui gli anziani vivono molto e che però sviluppano anche tanti nuovi bisogni. Quindi abbiamo misurato una nuova capacità di offerta. E non di arrivo perché da questo momento partono anche tutte le opportunità che consentiranno a vedere questa comunità sempre più diciamo al centro delle risposte che riguardano la cronicità delle malattie, la presenza e la continuità di cure sul territorio. Quindi l'apertura a nuovi progetti che non finiscono qui ma partono da qui.